Ma Mare dalla Rai, e la Lucia Annunziata! Che è successo? Un obbrobrio, quando padrato! Un obbrobrio, un obbrobrio, detto da lui! Ha questa importanza, ha questa importanza, ma ti metti conto! Però scusami, la tesi a parte della rai... Ecco, il vantaggio di questo governo è che si incomincia a fare un po' di pulizia! Beh, questo è grave però quello che dici, scusa. Per trent'anni... Cioè tu lo faresti il programma al posto dell'Annunziata, lo faresti? Sì, veramente sì! anziché mezz'ora mezza merda si chiama sai come si chiama hanno allungato il programma da mezz'ora a mezz'ora da mezza merda a mezza merda addosso agli anziani io non meno gli anziani io non piccio gli anziani non posso picchiare gli anziani non posso non posso non posso non posso farti male non posso non posso di merda non posso farti male i tuoi protettori se tu non avessi i tuoi padrini non andresti neanche a pulire eccolo qua puoi pulire questo allora io voglio dire una cosa ma perché si rende così ridicolo poverino ma mi dispiace ma perché si rende ridicolo